Ciao a tutti e benvenuti in questo primo video del 2024. Come avete capito il freddo non è il clima che preferisco e quindi nell'aspettare l'aprirsi della stagione sono venuto qui vicino a casa, mi trovo a Codevigo in provincia di Padova e siamo in località Valle Mille Campi. Questa viene chiamata anche la spiaggia di Padova, il mare di Padova, però tutti noi la conosciamo come la spiaggia della boschettona. Come potete vedere adesso c'è bassa marea altrimenti quella passerella laggiù sarebbe circondata dall'acqua e resta il fatto che questo luogo è veramente veramente stupendo. E' una piccola parte della laguna Veneta in provincia di Padova e molto frequentata dalle persone per foto, video, per camminare, per rilassarsi e molte persone vengono anche per vedere il tramonto che da qui è veramente stupendo specialmente in estate. Nell'orizzonte là in fondo che adesso non si vede ci sono i Colli Uganei, oggi c'è la nebbia che sta scendendo ancora e quindi vabbè era un piccolo video che volevo portarvi, vi allego e lo trovate già nel mio canale una panoramica di questo luogo fatto in estate qualche anno fa con il drone e quindi spero che vi piaccia, quindi vi lascio un po' a delle immagini di questa spiaggia della boschettona. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!